Ciao ragazzi siamo tornati con gli incarichi storia, dobbiamo parlare del destino dell'isola con Jonesy, praticamente è successo un casino, dobbiamo fermare Dr. Doom perché si sta impossessando del vaso ed è una roba che ci fa piacere, quindi con l'aiuto di Magneto dovremmo farcela, io dovrei farcela parlare con lui, ecco qua bisogna soltanto parlarci e poi riscappare in macchina. Prima che fosse mi fa la pelle, intanto mi sa che me la fa, like ozzo al video mi raccomando per supportare il canale, codice creatore sempre attivo, ragazzi se lo usate mi raccomando taggatemi sui social che trovate in descrizione perché vi da la possibilità di partecipare ai contest e alle lotterie e vincere i premi durante le lotterie, vincere gift card, skin, pass battaglia, insomma quello che più volete, cerco di liberarmi di questo qua. Ci vediamo in live tutti i giorni, se vi va di venire a giocare alle 3 e mezza del pomeriggio o su YouTube o sul viola, intanto marchi il lato, ciao!